Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Oggi vi rubo veramente qualche secondo, giusto per darvi un piccolo suggerimento che magari non tutti sono riusciti a scovare all'interno del gioco, ma che comunque permette di incrementare lo spazio del proprio zaino, ovvero raggiungere il livello 20 con tutti i personaggi del vostro account per acquisire spazio nel vostro zaino. Perché vi dico questo? Perché quando voi ovviamente raggiungete il livello 20, che cosa succede? Succede che raggiungete il primo grado della vostra classe. Ogni qualvolta voi raggiungete il livello 20 con un personaggio, al di fuori ovviamente del vostro personaggio principale, otterrete un aumento di potere di combattimento, la skill ovviamente speciale del vostro personaggio, diversi bonus, ma soprattutto riceverete 25 slot in più per il vostro zaino. Quindi avrete la possibilità di espandere il vostro zaino in maniera totalmente gratuita. Facendo questo, con tutti i vostri personaggi, avrete la possibilità di espandere il vostro zaino in maniera gratuita. Quindi che cosa dovete fare? Dovete andare sulle impostazioni del gioco, andate sulle vostre impostazioni account e fate seleziona personaggio. Una volta che avrete raggiunto un buon livello col vostro personaggio principale e avrete comunque ottenuto un buon equipaggiamento, se vi servono degli slot in più per il vostro zaino, create un altro personaggio, fatelo arrivare a livello 20 e voilà! Avete lo spazio gratis nel vostro zaino. Vi posso assicurare che una volta portato un vostro personaggio principale con un buon equipaggiamento a un livello alto, portare tutti gli altri personaggi a livello 20 sarà un gioco da ragazzi. Anche perché, magari non molti se ne saranno accorti, ma l'equipaggiamento di base, tranne ovviamente le armi che cambiano di personaggio in personaggio, sono condivisibili. Quindi, se voi avrete un buon set di armature e di equipaggiamento in generale, potrete tranquillamente darlo al vostro secondo personaggio, che partirà già con una base di combattimento e con una base di potenza più alta rispetto al normale, e che quindi vi consentirà successivamente di essere più forti fin da subito e quindi svolgere le missioni in veramente tempi minimi. Infatti, se vi faccio vedere io il mio equipaggiamento corrente, che è per l'appunto questo, tranne ovviamente le spade e le armi, che ovviamente saranno diverse per ogni personaggio, se io vado a loggare con un secondo personaggio, facendovi vedere la selezione dell'account per il mio personaggio, per esempio l'ultimo che ho fatto, ovvero il distruttore, che l'ho portato giusto giusto a livello 20 e senza andare oltre, vi faccio vedere che praticamente l'equipaggiamento del mio distruttore è pressoché identico al personaggio principale, tranne ovviamente i martelli, che ovviamente adesso sono diversi, e che mi consentono ovviamente di avere una potenza, tra virgolette, diversa rispetto al mio personaggio, ma guardate il potere di combattimento già quanto è elevato per essere solo a livello 20. Quindi questo vi permette successivamente anche con quest'altro personaggio di ottenere il primo grado e come potete vedere una volta ottenuto il primo grado potrete implementare 25 slot al vostro zaino, permettendovi così di poter immagazzinare più oggetti. Ovviamente credo che il livello 40 si possa tranquillamente raggiungere dopo un paio di giorni, manco settimane, dato appunto la capacità di poter livellare in fretta con il video che vi ho fatto vedere già in precedenza, se non l'avete visto vi invito a recuperarlo, e quindi di conseguenza si avrà la possibilità di poter incrementare lo spazio del proprio zaino più volte e quindi in maniera totalmente gratuita. Spero che questo video possa esservi stato utile, fatemi sapere se già conoscevate o avete già sfruttato questo piccolo trucchetto, io vi aspetto ovviamente con altri aggiornamenti e con altri piccoli consigli, man mano che ovviamente li scoprirò e li analizzerò all'interno del gioco, però per il momento è tutto e io vi aspetto alla prossima. Bye bye!